Solo il 10% delle imprese che dichiara di svolgere attività di digital marketing, il 22% del totale, ha una buona dimestichezza con il digitale e con tutti gli strumenti di cui esso dispone. Il 20% delle imprese che dichiara di fare digital marketing prova a svolgere delle attività che vanno oltre il solo utilizzo dei social media, mentre la restante parte, il 70%, svolge attività pressoché amatoriali. E questo è il quadro che emerge da un'analisi commissionata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara al professor Damario, docente del laboratorio di digital marketing dell'Università Gabriele D'Annunzio e oggi presentata in conferenza stampa Pescara. La Camera di Commercio ci ha commissionato questo studio e purtroppo dobbiamo dire che la fotografia è disarmante. Da quello che emerge, soltanto il 10% delle imprese utilizza questi strumenti nel modo adeguato, quindi la strada è tutta in salita. Il 10% delle imprese fa digital marketing nel modo adeguato, ma ci sono anche molte imprese che pensano di fare digital marketing nel modo adeguato, ma sbagliano di grosso. Perché poi noi abbiamo fatto delle analisi desk, cioè al di là del questionario sono state analizzate in maniera tecnica con dei software avanzati le imprese e diciamo dal punto di vista qualitativo le imprese hanno ancora molto molto da fare. Quindi non c'è la consapevolezza di cosa sia il digital marketing, perché se io dico che faccio una cosa, la faccio bene, ma poi attraverso degli strumenti oggettivi vada a misurare la capacità di queste imprese di lavorare bene, questo non accade. Quindi c'è uno scompenso che dimostra che le imprese non abbiano contezza. C'è solo una via, è la formazione. Formazione continua in un settore dove la formazione deve essere continua, perché l'aggiornamento è continuo.